A tutti buon pomeriggio da Ripodono Marcoveggio, convegno di corse del 29 dicembre, prima corsa riservata ai gentlemen, cavalli di tre anni, Dragster Pink, Dominaz, ritirata di Letta Rec, Dark Lady, Day Room, Doritos B, Daisy Griff in prima fila, in seconda, Duchessa SSM, Dakota Fanning, Delivery Day Mag, Daniel Wise AS, Dukan, favori per Dark Lady, Day Room in chiusura, numero 4 Michela Rossi, macchina che accelera e stacca veloce, Doritos B, ma lo è anche Dominaz, Dominaz che conquista il comando delle operazioni all'esterno, Doritos B è partito molto bene dall'esterno, dalla seconda fila, Daniel Wise AS, che però rimane ora in terza ruota, e Dominaz in vantaggio, attaccato da Doritos B, che dopo 200 metri insiste nella sua progressione, attacca nuovamente e questa volta riceve strada, subito in come però Daniel Wise AS, mentre più indietro vediamo Dakota Fanning, Primi 400 metri in 29,6 con in vantaggio quindi Doritos B nei confronti di Dominaz, all'esterno insiste Daniel Wise AS, più indietro c'è Dakota Fanning con Dukan che ha preso posizione ed è seguito da Daisy Griff, se ne vanno i 600, e sempre all'esterno Daniel Wise AS, a lato di Doritos B, Dukan ora cerca di avvicinare e di andare direttamente in schiena a Daniel Wise AS, seguito sempre da Daisy Griff, mentre la code chiusa da delivery dei mag, se ne sono andati 800 metri intanto, e ora il chilometro sul piede dell'1,15 con Doritos B che continua a fare andatura, Daniel Wise AS che è calato, mentre in seconda posizione rimane Dominaz, accenna per un attimo la terza ruota Dukan, ma l'andatura è ancora sollecita, e a 400 dalla conclusione Doritos B non si lascia avvicinare, cala Daniel Wise AS, può seguirlo Dominaz e poi lungo la corda Dakota Fanning, che cerca di venire via anche... Arcledi, ma in retta d'arrivo è Dominaz che scatta all'esterno, Dominaz nel finale attacca Doritos B per piegarlo nettamente sul palo, mentre per il terzo è Dakota Fanning che precede ancora a Daniel Wise AS. La vittoria quindi per Dominaz è a grossa quota, 41 a quota fissa, Ter Antonio Mignano, allievo di Zanetti, vedete, passa nel finale nei confronti di Doritos B, la cui aveva concesso strada dopo 200 metri, e lo piega chiaramente nel finale questo allievo di Calogero Caruso, che viene a vincere molto molto bene, è a quota elevatissima, 41 a contro 1, 40 contro 1 praticamente, mentre per il terzo posto emerge il numero 8, Dakota Fanning, 2-5-8, questo l'arrivo ufficioso della prima corsa Arcoveggio. Grazie a tutti.